l'evento potrebbe essere bellissimo come bruttissimo ed è per questo che tu che sei a guardare questo video perché questo video in realtà è tratto da una live che sto facendo su twitch lascia un bel like cosa è successo qua? si è bloccato tutto e tra 5 minuti inizia l'evento quindi voi che siete in live tanta roba bella benvenuti intanto e voi che siete invece su youtube lasciate like io inizio ad aprire qua perché sto finendo di giocare sul tablet stiamo farmando ancora perché questi 40 punti a partita noi li vogliamo a bomba ok e nel frattempo ci bella power nel frattempo ci scarichiamo l'aggiornamento perché ancora non l'ho scaricato Anakin sei impazzito? no lì dietro non si va bravo vai giù dalla jackpot bella jackpot 29 mega ragazzi boom ricordatevi che se non riuscite ad aggiornare il gioco dovete scaricare l'aggiornamento tramite co-op bello sto ciuffo ok potete farlo tramite co-op no Anakin vai giù lì dietro non si va o vai su o vai giù ok allora quanto manca? 6 minuti 6 minuti quanti quanti punti avete 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 punto? quanti punti avete? fatemelo sapere io sto continuando a farmare forse riusciamo a fare cifra tonda abbiamo ancora 4 minuti come è andato questo evento? bella Tommy benvenuto grazie per il follow benvenuto io vi ricordo che se avete amazon prime voi che magari venite da youtube se avete amazon prime potete collegarlo al vostro account twitch e fare la sub gratis che sarebbe tanta tanta roba e mi raccomando quando vi scrivete fate qualcosa scrivetemelo in chat perché non avendo le cuffie per sentire l'audio di gioco riesco a salutarvi a fare tutto quanto per bene sapete che ci tengo molto 3 minuti ragazzi al nuovo evento stiamo qua 619k ho trovato solo vabbè buono ma 619k o hai fatto una slot e ti sono rimasti 620 ponte uh grande Phil grande sono contento hai donato hai visto? ti sei spaventato power eh ti sei spaventato uh dai dai che ce la facciamo ancora una partita riusciamo a farla vai partito subito chissà si parlava di un evento tipo sling però golf ma ma me puzzava di fake mo vediamo mo vediamo perché i disegni erano brutti ho fatto 4 slot solo eh vabbè dai vabbè l'importante che studi prima studi e poi e poi giochi e poi giochi ragazzi questa è la cosa più importante come vi pare stare qua su twitch piuttosto che su tutubo come vi pare dovremo trovare anche la zona giusta perché in just chatting non va bene no ancora non si sa niente power molto meglio qua vero fin abbiamo appena guadagnato una sfera riusciamo a farne un'altra dai che riusciamo a farne un'altra se se si velocizza ne facciamo un'altra 40 punti molto bene parti yes partito subito riusciamo a fare l'ultima l'ultima partita e poi posso ufficialmente spegnere il tablet dopo 15 giorni ragazzi sono 15 giorni che farmo non stop praticamente no dai 15 no una dozzina quanto tempo ci abbiamo messo a prendere a prendere l'orologio 3 4 giorni dai Tom 10 giorni di farming non stop sono 17 ragazzi appena finisce questa partita si parte sperando di di dovremmo farcela dovremmo farcela perché non sempre le vincevo eh con il clicker perché ho messo l'autoclicker su sul doppia z bella veto tra i multi non ho trovato niente eh porca miseria che sfortuna adesso lo chiamo sto finendo la partita di farming che probabilmente perdiamo invece no la vinciamo molto bene molto molto bene yes vinta spegniamo spegniamo l'autoclicker ragazzi taratata nuova event vi ricordo che tutte le mattine sono anche live refresh fai refresh fai refresh vi ricordo che tutte le mattine adesso sono live anche con il gioco di 7 Deadly Science vai boom si parte spegniamo il tablet grazie per l'aiuto che ci hai dato spegni tablet spento allora what abbiamo gv non so cosa voglia dire ma c'è un coin x cosa sarà mai sta roba qua nuovo coin z possiamo prendere lì z a me manca cosa fa cosa fa non ho capito ci sono nuovi coin e come si trova questo coin si compra molto probabilmente ah beh vedi qua bisogno di soldi ragazzi io ve l'ho detto hanno bisogno di soldi boom perché c'era un un proiettile uh zz come si prende sto zz slot please tra l'altro personaggio non lo conosco vediamo la sua energy max sono preso bene nulla di eccezionale bello sto zz mi piace un sacco ma tutti gli altri riescono a vedere tutti gli altri riescono a vedere fammi vedere qui andare sul mio canale si si vede io vedo io vedo eh non lo so devi luca devi refreshare secondo me allora è nell'evento di adesso in tre multe ho trovato rango zz ah cacchio è già è già slottato in due minuti io voglio capire un po' che tipo di evento è da qua non si capisce tanto vai vai riavvia vediamo un po' c'è i nuyash il classico evento cos'è di coro coro credo credo sia di coro coro sucche quindi è sling è ufficialmente una sling bello bello perché non ne avevamo fatte abbastanza non ne avevamo fatte abbastanza nella gnambo c'è ancora lo zz si che ci manca è l'unico che ci manca per ora andiamo un po' vai giù nella slot possiamo trovare questo z questa z che sembra un personaggio di conan che cosa fa ah ok decidiamo noi dove e poi lì ok molto bene non mi fa impazzire però va bene spero di trovarlo ciao palla tutto bene bella meriglen non mi fa impazzire questo z però speriamo di trovarlo velocemente allora due tripla s inuyasha doppia s vediamo le probabilità su chi su chi sono come sempre sui doppia sul doppia s sul triple s come sempre e ci ho messo anche dei triple s vecchi che probabilmente non avevo perché alcuni eventi gli anni scorsi me li sono saltati bene bene sono contento sono contento di questo che ci danno la possibilità di trovare gli yokai vecchi va bene cos'è cv perché c'è scritto quel cv di sopra stanno cercando lavoro ma ma quanta gente c'è ma chi sono tutti questi boh va bene e si è bloccato ok stai meglio ok dai allora ci danno sempre 100 punti ragazzi qua ci regalano slot ci regalano una singola però io vi ricordo tenetevele ok tenetevele perché dovete fare le multi con le multi ok le missioni non ce le date perché non ce le date ok abbiamo missioni nuove cos'è che sono dimenticati di controllare qua questo qua la mirata l'avano già controllato bene via così quando facciamo le missioni ce le da allora andiamo andiamo subito all'evento l'evento di coro coro io mi ricordo se è coro coro si al solito vai aggiorno aggiorno camiseria quant'è alto sembra esagerato questo è il simbolo di coro coro e c'è arms bene sono contento di rivedere i personaggi di arms allora come al solito ci raccontano che abbiamo preso il portale per andare in questo mondo e ci va bene così boom ragazzi iniziamo ci facciamo ci cambiamo team ci cambiamo team e ce ne mettiamo uno veloce sapete che noi vogliamo andare velocemente in fondo per vedere cosa c'è diciamo che ce lo gestiamo su questo cambiamo team mettiamo il nostro amico Takao Takao meravigliao allora magari lui ci da ci mettiamo pure lui lui e Takao là in mezzo andiamo a chiappare Takao è strano che tu non mi veda ma senti almeno piun piun Takao non so se si guadagnano i punti così però speriamo vediamo un po' andiamo avanti vai si inizia orologio nuovo caro Conan Conan prova prova magari con un altro dispositivo mi sembra strano mi sembra strano non riesco a entrare si sente alto il gioco si sente alto alto ah quindi magari non ti prende bene può essere boh Conan è andato abbassiamo un po' perchè è grabbato dal micro e mi da e mi da fastidio che sia tanto alto è perfetto allora rialzo un po' ok chissà se avremo l'occasione di fare un altro un altro video utile magari per voi eh no bella sling bella sling ok iniziamo si va bene solito ne abbiamo fatti a miliardi perchè mi fai sempre scegliere per favore fammi fare quello che voglio io ok ok devo vedere quanti quanti ce ne sono ah porca miseria che ho bisogno di qualcosa di dritto eh cosa prendiamo prendiamo pokemon spada dai prendiamo la questione di pokemon spada e vediamo se riusciamo a farlo dritto e non si bug beh più o meno così almeno è utile qualcosa pokemon in questo momento ma ragione dalla slot per affondere su chi si usa e ancora non ho visto niente luca non te lo so dire non ho ancora visto assolutamente niente neanche gli oggetti che si possono riscattare con i punti zero proprio però sappiate che io nel momento in cui finirò l'evento come sempre aiuterò tutti ragazzi senza senza troppi problemi ci organizziamo sul gruppo ok fatemi vedere un po' qua cosa possiamo prendere allora a 40 c'è lui che magari lo prendiamo quanti sono 7 sempre 7 a 7 c'è quello molto bene un succo è qua è quello dell'aiuto ok andiamo gioele non credo li stanno regalando un po' troppo spesso già con gli stamp ti regalano tipo 100 ogni due giorni 100 punti diciamo che nell'evento ti regalano una una singola che comunque tu dici poca roba ma piuttosto che niente le mele piuttosto vabbè dai facciamo così carichiamo lui è rimasto lui tanto morirà eccolo posso rifare il tacao possiamo usare anche lui vediamo tra quanto tra quanto andiamo a slottare ho farmato anche un sacco di soldi cioè 5 milioni ragazzi ero neanche a 3 milioni 5 milioni sono un sacchissimo allora io non so se ho la richiesta dell'amicizia è piena però sapete il mio codice è sempre eraWalk33 se volete mandarmela però credo di essere pieno ditemi se slottate cosa slottate come va ecco qua grazie pokemon yes yes battuto battuto pure lui battuto pure il secondo chissà quanti quanta vita ha il triple s comunque speravo in qualcosa di diverso nell'evento in qualcosa di nuovo questo è un po' è un po' un flop è un po' pacco uno di quelli che mi piacciono di me non lo sapete benissimo però però va fatto però purtroppo va fatto livello 3 sperando che ci siano anche pochi livelli qua a cos'altra state giocando in questo periodo ragazzi fatemi sapere nei commenti per chi è su youtube e chi sta mettendo like su youtube e chi non è su youtube è in live adesso chiaramente why yes tu muori quasi andato siamo andati proprio dritti alla fine proprio dritti gli adani io spero davvero che il video per farmare per droppare il doppio z vi sia servito che siate riusciti a prenderlo tutti quanti il doppio z perché è sempre bello riuscire a dropparlo e vi parla uno che non lo droppa quasi mai che non è che non è capace quindi quindi ci sta di brutto io proprio zero abilità nel droppare gli zz ogni tanto li trovo nella slot quando li mettono nella slot però devo ancora capire com'è sarà nell'impossible sicuro sicuro nell'impossible sicuro 100% generalmente li fanno così sti eventi e anche l'orologio è stato un parto prenderlo nello scorso evento davvero un parto difficilissimo infatti ha fatto la live per dropparli insieme wow è stato tosto tosto e niente un altro adesso quanto ci scommetti che che quando non c'è più stamina mi tira fuori il triple s e vabbè e vabbè com'è dretto cos'è vai zachan aiutami aiutami tu a tirare dritto sì sì va bene con te grazie zachan non ti funziona il link per il gruppo telegram aspetta che vedo se riesco a tiratelo fuori al volo telegram io che watch ita allora vai lì tac salva link no che salva link con nome si è embriaco copio indirizzo link guardalo lì eccolo lì ma sai che non ho ancora capito non non ne ho idea non ne ho idea di come si faccia devo dobbiamo studiarcela dobbiamo studiarcela e soprattutto a cosa serve dobbiamo dobbiamo aspettare l'evento scusa non scusa l'evento dobbiamo droppare la guida dobbiamo dropparla ragazzi dobbiamo droppare una fantastica guida no appena la pubblica noi eccolo lì milleotto ma vediamo se riusciamo a farteli milleotto zio abbiamo due colpi così riusciamo a prendere il primo bisogna di spazio qua mouse spostate io l'odio questo io questi li odio porca miseria meno l'altro era più semplice perché non sono capace a farli fare tre rimbalzi yes yes troppo grande questo troppo grande tu sei dritto per dritto vero più o meno più o meno così dovrebbe essere ne abbiamo lisciato una beh ne abbiamo lisciato un paio è impossibile che non ti funzioni devi passare da browser prova a passare da browser magari lo stai facendo tramite applicazione e non ti funziona generalmente così mi sembra molto strano che non ti funziona magari sei stato bannato perché hai fatto qualcosa se rigia dentro possibile anche quello tecnicamente non è impossibile ok takao fa un po' schifo non togliere takao ma a meno che rinne qua non faccio un disastro morbido battuto allora passa passa da browser se sei sul cellulare clicca sul link fai apri con browser e non con telegram ci sono dei problemi non so perché però il link è quello l'ho appena copiato dal gruppo è molto molto strano prova prova tu sei da tablet Luca 84 punti come mai così tanti punti non ci ho fatto caso fammi vedere fammi controllare nella diretta niente sono stato troppo veloce sono stato troppo veloce forse ho droppato già un succo va lo prendiamo dopo chi se ne frega tanto non lo stiamo usando adesso quanti livelli ci sono 700 un milione di livelli che dobbiamo pure slottare e trovare tutto stana da niente ok vediamo se si ingrandisce vai mandamelo x mandamelo mandamelo lo mandi in privato nel gruppo mille 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 ingegner cane come sta andando su animali crostini palla oggi non ho ancora loggato ma potevo loggare porca miseria se no mi perdo ancora mi perdo ancora le robe ben 300 di vita come faremo eh vedi ottimo aia aia e allora ti devo dare il link per minecraft così entri nel server l'unica cosa è che devo aprirlo sempre il server prima a fare la mano libera ragazzi yes ma quanto siamo precisi in che senso vita non ti seguo questa non ce la farò mai boom sono più preciso con la mano libera che così no che con pokemon quindi zachan non serve più a niente sei useless zachan ok abbiamo finito la stamina è ufficiale no vabbè piano piano si esplora piano piano si esplora che te frega tanto c'hai tempo ok merry merry glen ah però hanno cambiato gli sfondi bello ti posso droppare yes io lo voglio prendere questo io ne ho tipo otto zachan otto zamazenta otto eternatus che me li sono fatti scambiare come li sono non è che io li mandavo in gts chiedevo la richiesta e me lo prendevano easy prima che t'ammazzo prima che t'ammazzo è un s questo non lo dropperemo mai mai nella vita x adesso muore boom fatto ti prego please niente niente non riusciremo mai magari l'oggetto l'oggetto va fuso con questo può essere non lo so non so neanche cosa serve quell'oggetto eh ho capito ma non c'ho più stamina è inutile voglio dropparlo questo lo voglio droppare ragazzi di cosa stiamo parlando no jackpot non sei non ti sei perso niente ma come ne hai preso neanche uno ma in che senso che sfiga ma non uscirà mai non uscirà mai allora non non farti desiderare così tanto caro zio di cui ignoro completamente il nome tanto mo ci lasci le pin ok caricato g vai qua in mezzo dai niente niente secondo me passeremo tutta la live a cercare di droppare questo te lo dico io te lo dico io io ti devo prendere perché sennò poi mi dimentico non ti piglio più e non va bene e non va per niente bene e non si fa così pepe preparati perché siamo con una sling e devi tornare operativo pepe a te che piacciono le sling caro pepe sei pronto? io il mio l'ho già fatto ho già battuto la prima volta al triple s tra una lezione e l'altra quando t'annoi posso giocare a fortnite li adoro immagino non ho mai capito se era un troll che ti piacevano le sling o no o ti piacevano davvero l'abbiamo droppato? stranamente no cioè faccio fatica ma meno male ma tu pepe di fortnite hai si di fortnite di di minecraft hai la versione java o l'altra? forse c'è la java perché il vecchio server era su java porca miseria io adesso sono su bedrock perché parte la ventola? zio perché fai partire la ventola così a raffica che non ha senso oh ma si vuole droppare o no? niente l'ultima ah sei su java ma pare cioè mi dicevano che si possa anche riscattare la versione bedrock dal java a gratis vabbè ma costava 5 euro io non sapevo la differenza nessuno me l'ha detta guarda te l'ho visto 5 euro 20 euro 5 euro di cosa stiamo parlando dai please please niente eh non va bene non ci siamo andiamo avanti lo prenderemo poi ricordiamoci che dobbiamo prendere questo magari ce lo rimetteranno nei livelli più avanti però che ansia ah ok bisogna droppare al 16 ma vediamo non sono ancora arrivato al 16 ma vediamo ah ma io non ne so niente di stare qua vai spara Luca però su bedrock c'è l'RTX ok lo prendiamo lo prendiamo cerchiamo di di sbloccarlo vediamo un po' come si fa a sbloccare wow meno male che abbiamo droppato lui e non l'ha 6 di prima molto bene molto molto bene siamo all'8 per andare avanti siamo fermati su quello dobbiamo slottare dobbiamo finire le mappe uh a voglia non abbiamo di roba da fare ci ha fatto perdere tempo quello lì deve essere droppato proprio subito ma perché parte la ventola a caso eh no senso buono ma non ci mettiamo poco io si io l'ho preso solo per vedere l'RTX per poterlo farlo in live ma non funziona non si può fare in live fantastico sarebbe stato bello se non esce in Italia prendo la lingua originale e tutti gli ok watch di sicuro lo prenderò al 4 ah io lo sai che appena appena esce in Giappone lo prendo lo gioco per voi ci divertiamo però quando esce esce chi lo sa tu lo sai non si può in live è vero non si può in live vabbè ma 5 euro dai ci stanno 5 euro per vedere l'RTX poi un giorno lo metteranno ma guarda che è molto bello eh è molto molto bello in realtà proprio cambia wow un cano gelato è veramente inutile hai ragione è useless devo riaprire le server eh qualcuno mi ha battuto già male fantastico grazie continuate a battermeli per favore certo cosa prese l'RTX a fare eh no tu dici così solo perché non ce l'hai di la verità dici così perché non ce l'hai l'RTX eh ho capito però vabbè lo facciamo lo battiamo con questo e lo battiamo con questo finiscio vabbè lo riapriamo java dai lo riapriamo java riapriamo lo server java quando lo giocheremo live lo giocheremo java tanto ce l'ho c'è quello quello gratuito vediamo se riusciamo a droppare ad aprire quello stage segreto dove vai pepe stai pronto stai pronto qua a slingare come solo tu sai fare hai fatto come ti dicevo io gioia sei riuscito passando per il browser come hai fatto devi stare pronto pepe devi stare pronto con gli account secondari no no come non funziona come non funziona si che funziona x non ho ben capito ma tu mori male così ok guai toh droppiamolo boom yes yes allora per sentire il volume devi mettere una tacchetta di volume della suoneria poi vedrai non ho ancora non ho ancora slottato sai che mi faccio prima un po' di mappa poi vado a slottare ok lo stage segreto non l'abbiamo fatto voglio vedere quanti livelli ci sono ah funziona con sta roba qua io ti metto ti metto qua al posto al posto di Rinne ti metto così mi pare tra poco tra poco salottiamo quando finisce la mappa guarda siamo qua adesso ci finisce la mappa andiamo a salottare vabbè ma meglio fare le video lezioni a casa che andare a scuola no almeno non c'è tutto tutto il drama dietro non trovi è molto meglio funziona adesso Luca mi è buttato giù il 6 fantastico grazie grazie qualcuno ha buttato giù anche il 5 perché non ho più stamina l'ho finita l'ho finita tutta stai già facendo i punti per aumentare di livello grande andiamo wow ci sei andato 8 punti che fa ma andiamo andiamo a salottare un po' solo uno 3 ok andiamo a salottare un po' dottori vediamo se siamo fortunati non credo perché l'ultimo triple S che hanno messo nello scorso evento non sono riuscito a prenderlo e ci ho buttato 50k 60k vabbè easy 1800 di vita vabbè però cioè capisco che c'è meno interattività con i tuoi compagni poi ti puoi fare i fatti tuoi dai quanta roba andiamo a salottare qui di ambolo non ne abbiamo andrà se c'era qualcosa di nuovo boom dai prima slot ragazzi please subito tutti subito dai almeno una d'oro ok ma perché parte il ventilatore qua ok lo stiamo portando al 7 un S bene potrebbe essere un buon segno A speriamo che non sia il più alto che troviamo ok segreto portiamo al 6 segreto al 6 pure lui niente queste sono state le mie ultime 10-15 slottate sono state così non devi farmi usare 300k però è un po' più di dorate molto bene S what dai ragazzi dai ragazzi che si slotta grosso 2S mi sa che hanno fatto dei cambiamenti dai partiamo un po' di fortuna secondo me hanno fatto un po' di cambiamenti anche sulle slottate 2S che avevamo già un altro S che avevamo già e un altro S che avevamo appena droppato fantastico grazie gioco sempre più simpatico dai ragazzi non voleva andare sotto i 300k lo trovate tutto tutto in due slottate adesso tutte rosse dai non farci perdere tempo gioco non farci perdere tempo fai il bravo fai il bravo hanno aggiornato qualcosa ragazzi e non va bene si 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 non va bene un po' ti invidio palla un po' ti invidio vorrei farlo facciamo cambio dai tu fai la live vado a stirare no Vito secondo me hanno hanno abbassato le probabilità di brutto cioè c'è scritto che ne so 07 1 e mezzo ma in realtà non è così non è così perché guarda c'è una dorata una io nelle scorse 60k che ho slotato per il triple S quanti sono boh 12 fai una dozzina di di multi ho fatto solo due avevano oro ciao palla solo due avevano oro tutte le altre solo rosse è un po' mi si chiude la vena si si dall'altro evento da quando ha fatto l'aggiornamento a metà guarda che cos'è ma con tutti quelli che ci sono ma che cos'è facciamo ancora una e prendiamo avanti con la mission non ha senso si si 100k io dopo 50 dopo una dozzina di guarda un'altra tutta rossa ma dai ma dai ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando qui sai cosa fanno qui hanno bisogno di soldi si si hanno bisogno di soldi e quindi non ti li danno più non te li droppano più così dicono ah scioppano e invece no la gente si allontana così la gente non ci gioca più cosa mi dai triple s ah wow grazie grazie wow veramente gentile sei stato gentile che mi hai fatto trovare qualcosa che non avevo gentile ma di cosa stiamo parlando ma io non slotto più neanche ma io non slotto più neanche meno male che c'è qualcuno che mi butta giù eh e mo a questo cosa gli racconto eh cosa ti racconto che non c'ho stamina eh e io vado avanti cosa devo fare wow wow eh boh forse ce l'ho in Uyasha S ce l'ho non ce l'ho e non lo posso fare non è che magari te lo fa droppare no niente non ce l'ho zio non ce l'ho però forse lui lo posso prendere e non va bene e non va bene non mi vedere il B ce l'ho dai fai un po' di spazio qua fammi spazio già ma fammi spazio levate vente ma porca miseria dai levate no l'hanno te lo dico l'hanno cambiato è quello per in Uyasha quello quello che chiede è quello per in Uyasha è quello che si fonde con la gemma quello lì e non ce l'ho e come faccio a prenderlo si trova nella slot non credo non mi sembra di averlo visto nella slot come le pare quello di prima dai ah nello stage segreto devo usare quello bisogna di cambiare Takao togliamo Takao facciamola così e non ho ben capito Luca se riesci a fare un messaggio dove si capisce con la ponteggiatura giusta io ti ringrazio perché non si capisce una mazza fammi un bel messaggio scritto bene come se dovessi farlo leggere al presidente degli Stati Uniti senza insulti senza insulti quindi se riesci però anche con gli insulti ci sta guarda cambi team guarda c'è qualcosa che non va in sto gioco è diventato un troll non ho allora Eragon ho slottato 4-5 volte non ho trovato niente non ho trovato assolutamente niente perché è buggato si vede che hanno fatto qualcosa lo yokai con la luna sulla testa che ti chiede il no yasha è quello dello serie segreto numero 1 ah ok adesso lo capito qualche gioco sulla play ma porto nioh 2 sulla play arriviamo al verdetto puni puni è morto puni puni è morto quindi circa hai trovato tutto eh io quante slot ho fatto 5-6 3 erano tutte rosse 3 erano tutte ne ho fatte 6 3 erano tutte rosse esiste una roba del genere no non esiste non si è mai vista una roba del genere vuol dire che mi prendi in giro non va bene e non va bene perché se prendi in giro l'utente finale sì vai a vedere il pass broadcast è incredibile ma ti ho detto ho fatto così gli ultimi 12 slot per trovare il triple S per trovare il triple S la puzzola rosa 60k sì 12 slot una roba del genere e tutte rosse tutte rosse tutte rosse ma io me lo auguro io me lo auguro che abbiamo trovato già tutto così così abbiamo un aiuto per la slot cioè per la slot per la sling abbiamo un grosso aiuto per la sling mi raccomando ragazzi lasciate il like quando carico il video su youtube su youtube vi guardate un paio di minuti almeno e poi lasciatela anzi lasciate like e poi vi guardate un paio di minuti che trodico a fare ma poi un'altra cosa che ho notato anche gli oggetti qua da riscattare io ne avevo 99 non usandoli sono calati perché ne ho 17 adesso non usandoli ehi l'ho preso nell'evento nell'evento cos'era 6 eventi fa una roba del genere un paio di mesi fa piom piom cese guai toh rifaccio questo così impari e così impari c'è pino c'è pino dice yes ho preso 109k e ho trovato un solo triples si hanno ve l'ho detto ragazzi hanno cambiato il drop rate o hanno aggiunto gli yokai che insomma prima ce ne erano 100 adesso ne ha messi 200 e quindi ti dicono è comunque l'uno e mezzo ma su 200 è più basso capito non so se mi spiego però è no sense è no sense ragazzi è no sense cinzetta ma di cosa stiamo parlando tra l'altro granly grazie per il follow non so se t'avevo ringraziato prima grazie per il follow lo stai facendo cinzia pio pio yes yes dai questo lo battiamo così era walk 33 fatta che te lo scrivo è il solito non c'è il multi sai che anche l'altra volta che facevo da qua però devo fare spazio aspetta che devo fare spazio era walk 33 devo fare spazio e poi parte la ventola e va bene così spacca tutto quanto cinzetta spacca tutto dai fuori di matto dai fuori di matto la 22 tanti come 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 siete messi slottato slottato grosso ho trovato tutto aspetta ah vedi 18 vai poi mandami la richiesta ho trovato tutto io niente ho trovato i due nuovi triple s e il nuovo doppio s ah beato te beato te dimmi quando mi hai mandato la richiesta che ti add che accetto adesso c'è la della lo buten vero bene dammi un istante che ho appena appena metto mandato ho fatto play vabbè tanto ci mettiamo niente easy fatto secondo me i due gatti lì di cui ignoro totalmente il nome tanta roba troppo forte ora 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 niente ma allora secondo me è Jojo Jojo non è coro coro Jojo non so che cos'è Jojo da cos'è coperto ma non credo che ci sarà mai le gomme della macchina si le gomme della macchina sono la buten adesso eri tu giusto io non ho visto tante non ho visto il nome dimmi che eri tu ora 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 tanta roba Jojo tutto abbiamo già quindi andiamo ottimo ottimo direi ottimo direi allora caro gatto caro gatto giusto è andato morto grazie grazie tanti ma come si prende sto doppia z e nell'impossible lo troveremo all'impossible sai che un po' ci speravo nell'evento nuovo nel nuovo genere sicuramente è meglio di questo yes morto succo wow ci ho droppato anche un succo ottimo eh bravo è shonen non mi veniva in mente è shonen quindi dubito che ci sarà su coro coro però mai di segra mai dire mai l'han fatto però mai dire mai mi sembra strano però e ci starebbe anche di brutto perché alla fine gli stand puoi diciamo spacciarli per per yokai secondo me si potrebbe fare eh no si può essere io me lo auguro se ci vuole un bel evento nuovo fresh con roba nuova però ragazzi secondo me sono alla frutta questi sono alla frutta ed è un peccato ed è un peccato perché per me è come se a voi chiudessero fortnite per quello che che ci ho investito e tutto quanto e basta però e non c'ho non c'ho stamina non c'ho stamina vito speriamo che a sto giro riusciamo che nello scorso sono stati veramente sfortunati quanto gli mancava 20k per tirarlo giù io io ci ho provato io io più di così non potevo farlo ma allora Pepe c'era prima Pepe è entrato in live è uscito ma no ma il classico gioco dove lo puoi cioè sei in quei momenti in cui ti ritiri e hai bisogno di pensare hai presente? ci puoi giocare in quei momenti posso riguardare TikTok ci puoi giocare però è l'unico è l'unico gioco vivo al momento di yokai tutti gli altri sono obsoleti o morti o che non ci gioca più nessuno capito? quindi per quello che si gioca per quanto mi riguarda oggi avevo quasi cinza avevo quasi convinto Janji che mi avevano mandato la la beta di di Diablo 4 da testare da da lievito la sub in questi giorni ne abbiamo perse ne abbiamo perse 4 in questi giorni la gente si dimentica la gente si dimentica oppure vuole andare preferisce dare 3 euro a quelli che magari ne fatturano 3.000 al mese capito era impazzito stava dando fuori no zio non puoi farlo in live era impazzito sai che lui è fuori come noi per quel gioco vediamo se riusciamo a prenderlo è lo stesso di prima? vediamo e invece su su puni puni quanta grana ci hai messo? forse lo stesso di prima vediamo se riusciamo a chiapparlo non credo però boh sai com'è io un po' ci spero why si si lui lui è fuori per Diablo niente non ce l'ho troppa manco per sbaglio questo mamma mia io mi accontenterai anche se domani ti dicono guarda esce Diablo Immortal e il 4 esce tra un anno però cacchio ditemi qualcosa aggiornatemi aggiornatemi non ha senso sta storia qua voglio rifarmi Barbara che gira in tondo cavolo in più sta storia del virus sicuramente non ha aiutato gli sviluppatori e quindi si rimanderà ah devi avere o devi avere la carta su puni per shoppare oppure su paypal mamma mia cioè devono farmi qualcosa di stratosferico perché ho provato a giocare ti ricordi quel gioco di Warhammer ci ho provato a giocarlo ma non è la stessa cosa non è la stessa si puoi farmi un gioco simile a quello ma non è diavolo ragazzi non è diavolo questo è quello che provo io ho proprio bisogno è un bisogno viscerale di di passare le gli anni a farmare cioè ho detto a farmare l'anello della magnificenza regale ci ho messo tre anni ragazzi tre anni di gioco per farmare un anello non lo droppavo tre anni non ti dico tre ore tre mesi tre anni eh daje qui che mi fai usare se sfida e non ce l'ho e mi prendi in giro e non ce l'ho non me lo vuoi droppare mi hai droppato un doppio S che già avevo oggi torniamo a slottare ah necchi mi parti un po' di fortuna te petardo che non sei altro fammi fare lui voglio vedere cosa succede ah con il credito di Vodafone eh boh ci sta non pensavo si potesse fare con il credito pensavo ci volesse una cosa giapponese oh boh meglio ma io mi sono preso un po' con quello di Seven Deadly di gioco quello che ho portato stamattina in live e vediamo un po' vediamo un po' cosa ci porta niente fuffa dai andiamo a slottare please dacci qualcosa di buono ma sai che anche io Luca ho proprio voglia di mangiare fuori mi basta anche un McDonald's se devo essere sincero più di una per favore due ti sei sbrecato dai che qua forse troviamo qualcosa dai dai please non trovarmi un S adesso collezione di A collezione di A un B boom Z Z ragazzi doppia S ok buono buono ci mancava buono va bene iniziamo bene abbiamo fatto capire che ci teniamo Z qui Z oh 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 boom bam ragazzi Z sto Mario sto Mario io ve l'ho detto sono dimenticato di fare lo screen di Nui Asha dai fammi fammi sto screen per Instagram ok 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 ma eh vabbè ragazzi non trovo niente da tutta la vita vedremo in Uyasha in Uyasha ok provo a vedere in Uyasha ok bene buono buono perché ecco mio cugino eh ma era bello quello bella grande hai visto un po' di culo allora chi è che ci manca i due triple S qui due triple S yes facciamo facciamo un'altra che li troviamo tutti e due qua dai portatemi fortuna dottori portatemi fortuna basta che una sia tutta rossa ok però una può essere nella rossa eh segreto livello 2 quello ah ok scusa lo portiamo su quello quel B era vitale da portare su Vito tu devi tifare per me perché nel momento in cui finisco io aiuto te lo sai ok no dobbiamo trovare triple S dai ragazzi triple S triple S niente foffa barats barats adesso lo troviamo qua ok dai ragazzi io ci credo triple S triple S cristallo cristallo ok va bene va bene il cristallo almeno lo siamo levati non so cosa serve non so quant'è non lo so cosa serve non so qual è il drop rate però c'è ce l'abbiamo e siamo contenti così magari un oggetto per da fondere da non lo so dai triple S dammi almeno il triple S per favore uno niente ancora una e poi andiamo avanti con la storia per forza per forza non non rosse ok si è svegliato il gioco eh lì che sarà si pone con quello si ma che cosa esce quando lo fondi che cacchio esce è quello che mi chiedo io a che serve ah un doppio S pacco che è useless un triple S un quadruple S dai dai fai il bravo niente andiamo avanti con la storia ci mettiamo in team già eh loro al posto di degli ultimi due non ho sbagliato eh hai ragione mi sono dimenticato in Uyasha serve qualcosa vabbè lo portiamo su che ce frega a noi che ce frega a noi tanto parte il ventilatore andiamo avanti sembra esagerato quanti livelli ci sono ma scusa ma steggi segreti ti ho già yes dobbiamo recuperare quell'S là che probabilmente lo troviamo qua dai veloce veloce e indolore zio dai vai a morire veloce e indolore ok via che dobbiamo andare a prendere triple S che io poi non cioè non capisco come faccio a trovare lo Z prima di quelli che hanno il drop rate più alto ma è possibile ogni volta è così va bene cioè sono contento di quello che mi succede però porca miseria ha zero senso sto gioco bella power ma devi venire anche gli altri giorni non solo quando faccio la ricosina sono contento sono contento che ti piaccio come streamer yes cinzi abbiamo slottato so che non te ne frega niente però abbiamo slottato e abbiamo trovato lo Z so che non te ne può frega di meno però l'è in sci riusciamo ad ammazzarlo quello lo proviamo così niente se ne frega assolutamente bella Edo che si dice a caso lì in mezzo vero sei felicissima che non vedevi l'ora che lo trovassimo t'apposta a ferragosto non so perché non c'è il multi ma lo vedo anche da me che non c'è guarda impostazioni qualità non so perché quando faccio le live di puni secondo me è anche la categoria dove ti metti può essere magari il just chatting è più leggero no non lo so stamattina c'era ma è con puni che non c'è mai mai ma mai nella vita sono di Milano sono di Milano tu se non ti va bene cambio eh molto volentieri come ti sembrava il gioco di stamattina cinzietta un po' una cacca però c'era un po' di gente hai riscatato Mirko c'era un po' di gente stamattina interessata al gioco mi ha fatto piacere vedere gente nuova gente che chi viene ti dà una mano ti diceva guarda devi fare questo devi fare quello entro su discord e parliamo su discord non era male solo che non ho ben capito perché ci sono 300 milioni di cose da fare in quel gioco io volevo provare lo z però in realtà vado a vedere che tira il calcio ma cosa fai? ah mi fai crescere i nuyash ah è vero l'avevamo visto prima weh draxxus tutto bene? cosa stai facendo di bello prima di entrare in live ovviamente tutto a posto è buono il tuo account puoi cambiarci il nome lo chiami jackpot e i miei stessi eroi possiamo fare anche una live dove ci alleniamo ragazzi ci alleniamo insieme ci mettiamo qua prendiamo i pesi ce l'ho lì il peso e ci alleniamo facciamo le flessioni gli addominali e poi basta poi ci svegliamo perché non lo facciamo e questo non ce l'ho già ma non ce l'ho non ho mai sbloccato la serie segreta no non entro su discord è troppo pericoloso essendo che poi il video va su youtube è troppo pericoloso il tts come dicevo stamattina è troppo troppo pericoloso puoi cambiare il nome interessante e hai anche Escanondor com'è che si chiama Belfagor Escanor perché non lo giochi Escanor bravo io sto solo la prima season perché è pericoloso e lo sai benissimo che è pericoloso potrei mettermi in chiamata no è comunque pericoloso il tts si sente no no è troppo pericoloso non si sa mai ma io avendo visto anche solo la prima season e avendo iniziato a giocare ieri in realtà non cioè sono parecchi indietro ho detto stamattina ho preso king eh meglio meglio non rischiare stamattina c'era Genji che mi diceva ti faccio la live su Raid Shadow Legend però poi non l'ha fatto meglio così power non uscire non rischiare non rischiare che stavo pensando si potrebbe usare l'autoclicker in sto evento per per farmare soldi in realtà e livelli degli yokai quello si potrebbe fare fatemi vedere cosa fa lui cosa fai tu fammi sognare fammi sognare in Uyasha bellissimo 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 il bordello fa volevo mi sarebbe piaciuto portare Daymer 1998 1998 come gioco un po' un po' horror un bel survival horror però non c'ho soldi neanche per piangere ragazzi spediamo tutti i soldi per far mangiare Anakin ah boh va bene Vito ma non ti preoccupare non sbatterti neanche vado avanti con il mio non ti preoccupare ti ringrazio per il pensiero non uscire resistisci in casa resistisci che si sta bene in casa è tutta è tutta la vita che cercò un modo per poter lavorare da casa e quando ci stavo per riuscire tu pensa hanno detto tutti quanti state in casa guadagnate da casa andate a streammare tutti cos'è successo ma quello è il minimo sai che quando posso aiutare qualcuno lo faccio molto volentieri cosa fare guai eh io sono praticamente in casa da ottobre più o meno sì vabbè prima uscivo eh ma più o meno con la stessa frequenza con cui esco adesso a parte che vabbè che ne so quando erano a Milano i miei il lunedì andavo a mangiare da loro poi una sera a mangiare dai genitori di Monica e e poi forse un giorno in settimana andavo a farmi un giro cioè questa era la mia la mia settimana quindi non è cambiato tanto uh abbiamo lui da prendere ce la faremo al terzo tentativo al terzo giro eh vero Anak eh terzo in realtà abbiamo fatti una decina di tentative per chi appare sto qua ma puoi non farmelo prendere subito a me basta che mi fai trovare il triple S ma senza problemi sicuro risaleranno perché siamo in un paese di capre mentre non l'abbiamo preso hai visto? non l'abbiamo preso non l'abbiamo preso ma è giusto così perché lui adesso ci fa trovare io ho una slot i due triple S te lo dico io e per quale motivo hai fatto una va bene così va bene così che te lo dico a fare parapapà siamo quasi alla fine della storia poi torniamo a slottare ci andiamo a prendere quel maledetto di S sembra un po' un insulto se è un maledetto di S vero? yes eh su chi lo facciamo? facciamo sempre su di lui ma se che ci frega ma che ci frega ma che ci importa wow bom dai è stata una delle partite più lunghe questa in assoluto si che sta guardando Monica dietro giochi a cosa? a cosa giochi power stasera finale 3 di usare la forza già nel padawan mi piace mi piace questo mi piace il tuo modo di pensare Luca bravo 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 non verrai bannato sul gruppo sì sì ma adesso mi sa che lo maxeremo devo devo vedere quindi non è droppato nulla nello stage 16 no perché cosa avrei dovuto droppare nello stage 16 non ho fatto una buona scelta qua eh no eh no Fortnite eh no e cos'è che era immortale questo devi devi farmare su puni puni comunque ho visto gente che il doppio z l'ha maxato io no io l'ho portato al 3 al limite e andava h24 per farti capire ma va bene così va bene così solo con l'autoclicker portato al 7 io no va bene dai su muori male non so che cosa sia Vito che cos'è ma è immortale sto qua dai zio lasciaci le penne per favore mamma mia indistruttibile questo onigoto ma di Fortnite 70k su Fortnite cavolo partecipo pure io non sono capace non so costruire ma partecipo pure io per forza no non farlo non farlo non giocare a Fortnite non giocare a Fortnite piuttosto gioca a scala 40 fatti un solitario a carte mamma mia è il male quel gioco è il male fammi questo favore fammi questo favore e fatti questo favore perché non ha senso non ha senso è tutto sbagliato è completamente sbagliato quel gioco l'hitbox i colpi gioca piuttosto a COD che è gratis ci vuole il plus a COD a Warzone quasi alla fine 45 42 devo andare a prendere quello la te ti ho si chissà quanti yukai mi mancano che si trovano nella storia dovrebbero dirtelo da fuori zio ti manca questo devi farti questo stage qua sarebbe molto più comodo però mi suggerisco che qua fanno di tutto per non facilitarti devi farti gli sbatti wow non troviamo solo coni gelato parapapapam parapapapam ci riusciamo a tirarlo giù questo proviamo no allora no non posso vito non posso ah gli manca una puzza gli manca magari qualcuno lo butta giù quello quello lo sbatti lo sbatti grosso che se hai appena iniziato magari su puni devi devi o avere un culo infinito sei di quelli che non ci chiedi manco tu avrei potuto aspettare allora facciamo così ingrandiamo lui aspetta dove mi battere questo qua ma leggo il messaggio allora però non ho messo ma non mi è chiaro quello che hai detto Luca però ci sta eh vabbè ma Anakin dai giù dai giù fai il bravo fai il bravo ma guarda che vengo lì guarda che vengo lì capito questo è il movimento che faccio io durante la giornata quando Anakin sale sulla cucina io mi alzo per farlo scendere i miei esercizi in palestra sono questi eh vabbè ma guarda anch'io come li sto facendo i livelli senza impegnarmi ma basta che c'hai due yokai giusti ed è fatto cos'hai visto cos'hai visto cosa guardi hai provato qualche insetto dentro prima ti guardi per terra questi sono i melenamenti quando prendi in braccio Anakin quando ti alci vero e ne chi e ne chi scusa voi come va allenata così non c'è la paura del vaporetto aveva paura del vaporetto che babbo di gatto ma poverino ma come fuori piove vabbè che generalmente anche Anakin sta fuori beh siamo alla fine ci sbloccherai lo stage eeeh non ce l'ho non ce l'ho Jean Team ma non è quello che mi serve ah no il triple S non ce l'ho il triple S porca miseria come 40 gradi dai vero fa caldino però sta corriere è arrivato il corriere cosa ti porta di bello il corriere roba grossa why è ne chi ho fatto adesso ragazzi li troviamo o no sti triple S li troviamo o no ci sono delle fognature ah il doppio Z che cos'è cosa devo fare ah i sigilli bello però scusa boh non ho capito non ho ben capito non ho capito cosa bisogna fare lì ma sicuramente sarà troppo forte da battere adesso what Anakin bel gatto bel gatto cioè giusto per farci due risate così ma adesso Cinzia ah capito cosa fa lui ti sciotta cioè tu fai un energy max e ti sciotta ok molto bene simpatico sei simpatico ragazzo sei molto simpatico allora lo Z ma come si fanno quelle robe lì ma non mi è chiaro bene andiamo andiamo a slottare ah cavolo mi dispiace mi dispiace Cinzia andiamo a slottare ragazzi boom vai portatemi fortuna yes yes qua c'è dobbiamo trovare almeno uno in questo dai 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 ci crediamo ci crediamo non fateci sprecare punti pure pure la ventola è partita ok doppio baraz 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 quale quale facciamo centro sinistra o destra o centro in alto in basso centro su giù ditemi voi scegliete voi partiamo dal centro centro dai sinistra è un'ingiustizia è un'ingiustizia te lo ricordi Calimero tu dio cosa dici quella in centro quella in alto o quella in basso che dici centro Cinzia ha detto che nel centro dobbiamo il triple S è così in alto che non mi devo neanche piegare poi giù e infine su vai centro centro niente poi giù triple S oh oh yes un doppio S ma ce l'avevo già questo già ma che fai mi trolli ma cosa abbiamo trovato prima di doppio S che troll è questo ah è vecchio infatti niente ti piace? si vola roba grossa però sono contento che quello che quello ci mancava cioè quando non troviamo quegli eventi ma se troviamo quelli degli eventi vecchi che non abbiamo sfruttato prima cacchio tanta roba tutte rosse dai dai su dai su non farci perdere tempo però abbiamo trovato un S attenzione trovato solo in Uyash no mi hanno trovato anche lo Z si dai Conan toccatevi le balle che c'è Conan dai triple S buono iniziate a scegliere se fare quello sopra o quello sotto un S lì non mi piace tanto tanto io oh triple S qua triple S no bello wow sono molto contento sotto poi sopra io sto sudando fa caldino qui due S non troveremo niente qua dai un altro in Uyash ma che cacchio me ne frega a me delle facce lì e non voglio spendere 100k ogni evento minimo voglio spendere molto di meno eh ho farmato un botto con l'autoclicker avevo 312k quando abbiamo iniziato sì è un evento con Conan ragazzi ce li fa sudare questi triple S maledetto ce li fa cacchio sudare non voglio spendere 100k devo ottenerli perché non si farmi sto evento infame partiamo dal centro ma vediamo però finché ci da una una dorata a a multi eh ho capito però lì dipende da quanto giochi da come giochi cioè io ho anni di gioco alle spalle un S ce l'ho dato sempre nello stesso punto sto maledetto dai dai triple S non una cosa a pacco ok vedi anche questo è di Conan triple S pure lui buono ce ne manca uno ma no come doppia S il doppia S già ce l'abbiamo che dove il triple S dobbiamo trovare che doppia S ma è vecchio questo ma no ma no ma no ma no è vecchio santo Deo non c'è non c'è il crono quando ci chiamo a yokai il crono non c'è allora vediamo un po' che lo 0.2% di drop rate che senso ha lo 0.2 abbiamo trovato quello non ha senso non ha senso dobbiamo trovare questi due infami qua i primi due l'1% di drop rate dell'oggetto dai 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 per favore non farmi buttare via punti per favore così riusciamo ad aiutare tutti quanti ok era super nabbo dici Vito no la chat non va su youtube non va non va questo è lo spot giusto per trovarli il triple S un altro cristallo un per cento di drop rate l'altro c'ha due dai triple S triple S please oh adesso ce ne manca uno solo dottori uno solo ce ne manca dai fammi sto screen please fammi finire in bellezza fammi finire in bellezza boom dai yes yes sì questa è stata la slottata della vita questa è stata la slottata della vita ok bene bene ragazzi li abbiamo tutti abbiamo tutti non abbiamo slottato 100k e direi che questa slottata è stata davvero davvero figa tanta roba tanta tanta roba andiamo a vedere il cristallo nell'inventario allora inventario questi qua oggetti dai vai vai questo qua eh non ci fa vedere una mazza non ce lo fa vedere andiamo a vedere cos'è era questo qua quello delle fusioni oggetti non c'è non è una fusione quel cristallo non lo so non so cosa serve quel cristallo lì ragazzi lo ammazziamo questo dai nessuno me lo tira giù ci penso io boh ah deve avere anche lo yokai per farlo apparire ma vediamo ma è dritto 90 e come e come si sblocca lo stage come si sblocca ok adesso esce il 3 100% guarda finisco la stamina esce il 3 non lo so ci serve quello dello stage eccolo lì porca miseria 5.900 tanti ci sei ancora io non riesco a tirarlo giù sto maledetto non riesco non c'ho stamina giustamente non ho stamina eh male 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 non devi mai dormire no ci sono due tipi di sling quello che la la fai partire da sotto è questa qua classica allora devo tornare devo tornare indietro e provare ad andare a acchiappare quello là dov'è che era questo qua questo ci manca tanto domani mattina ci sei dio giusto non vai a lavoro domani ah boh può essere è vero domani alle 10 domani alle 10 direi che continuiamo con seven deadly signs e e vediamo cosa c'è qua potevo ingrandire pure quello droppamelo niente si si no che a una certa ora non riesco più a a leggere a fare niente e quindi io sono stato detto ma in che senso sono la demo della morte però è può essere può essere domani mattina iniziamo alle 10 con seven deadly signs poi poi vediamo ho preso su heartstone oggi perché era l'ultimo giorno per arrivare più in alto possibile e domani domani possiamo partire anche a bomba con heartstone volendo heartstone da vimodrone aspetta andiamo lì da mangiare qua ma è ma è tranquillo io ci sono tutti i giorni 10 10 14 e se non riesco come un altro giorno vi avviso nel gruppo chiaramente ma è come fa esserci lui dai droppamelo dai dai niente cibo non riusciamo a chiapparlo sto qua sto maledetto giusto per non avere un video di due ore cioè non si può due ore di video di event tu non sei più nel gruppo sei voluto uscire ci puoi rientrare sei voluto uscire boom ah non gli ho dato da mangiare eh no non gli ho dato da mangiare però lo droppiamo senza cibo lo droppiamo pensa che storia caro tablet stai fermo 15 giorni beh ma poi lì cioè te la prendevi troppo secondo me devi lasciar core cioè non te la prendere è male è la prima cosa che non ti sta bene come fanno tutti iaa boom andiamo lì da mangiare a sto giro perché se no non lo chiapperemo mai sto qua è un S è un semplicissimo S è un semplicissimo S santo Deo cioè non è 12 Z cavolo non riusciamo a chiapparlo niente non lo prendiamo non lo prendiamo no su qualsiasi cosa Cinzia sai come la penso che se se posso evitare di arrabbiarmi per una cosa lo faccio perché se no poi poi non ci stai bene è una scelta tua se arrabbiarti o meno non è una scelta degli altri è una scelta tua vai vai boom dai dai che lo prendiamo dai che lo prendiamo dai giamma che lo prendiamo sapete già come come sbloccare il primo stage segreto che andiamo a farlo andiamo sblocchiamo prendiamo quello che ci manca ci vuoi l'aveva andato sì dai dai per favore ma io non chiedo una cosa difficile devi farti reclutare non chiedo una cosa difficile non no 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 non ce la facciamo non ce la facciamo adesso cambio team guarda adesso cambio team prendiamo mettiamo lui e lui chiusa a meno li portiamo su piano piano e basiamo tutto su su quello rosso sul gatto rosso no no non è attivo perché poi youtube ci banna domani domani mattina sarà attivo dai very good very good ci piace ci piace hanno ripenuto da mangiare strano strano eh no qua sbaglio secondo me sbagli sbagli perché devi devi farti marcire il sangue quando puoi dirgli va bene la pensi così problema tuo che te frega guarda fai ok champ che te frega perché poi l'altra persona ovviamente rimane del suo pensiero e farà di tutto per far valere il suo pensiero per farti cambiare idea tu ugual andate avanti all'infinito e prima o poi qualcuno scoppia sai che non me lo ricordo non me lo ricordo il titolo non me lo ricordo tu gli dai fai bravo pacca sulla bravo zio c'hai ragione è così è così semplice easy easy proprio easy eh ma devi devi riuscire ad esserlo bravo bravo e via è così semplice è così semplice è così semplice tanto tanto cosa perché tanto cosa ti viene in tasca niente che te frega ci passi sopra che te frega che te sei una persona di cui non te ne frega niente ma bravo ma bravo sai che ti dico che c'hai ragione bravo rimani nella tua ignoranza non sono non sono nei tuoi genitori nel tuo insegnante non sono nessuno per farti capire che stai dicendo cagate e quindi e quindi così ormai si povero povero crono adesso diglio scrivglielo nel gruppo zio ma dove una volta che giochiamo a yokai e vabbè quanti me ne hai droppati sti così sai che ti dico che voglio vedere cosa fai tu perché 17 ti carichi vero fammi fammi un po' vedere cosa fai ah sei un booster bene e allora bustiamo taggalo taggalo adesso appena entra acquittiamo niente ragazzi è incredibile sto S è più difficile da reclutare del doppio Z dello scorso evento è allucinante non ha senso non ha senso perché è un S cosa vuol dire cosa vuol dire dai ma come fai è impossibile da reclutare voi ce l'avete fatta è impossibile e io ti do da mangiare madonna santa ti faccio diventare un obeso ah ecco aspetta aspetta ma si non fumare ti fa ti fa meglio non fumare vedi che te lo dicevo quindi che te lo dicevo oggi ieri quindi che te lo dicevo ah ma qui adesso lo prendiamo penguin bella penguin nei visi di giochi ma come questo grazie per la sub penguin l'abbiamo droppato pikachu 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 ma come puni puni just bang just bang non lo prendiamo non lo prendiamo sto maledetto just bang bang il past broadcast la porteremo pure su tutubo pure su tutubo e just bang io ho dato da mangiare boh non sai che ormai non so neanche se ho dato da mangiare niente 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 e just bang oggi ero quasi riuscito a convincere janji a farmi una donazione da 90 euro per shoppare su seven deadly signs per avere 200 gm quante volte l'abbiamo battuto sto tizio qua per favore è indroppabile non ha senso cioè si è mai vista una roba del genere era 95 più tutte le volte che non gli ho dato da mangiare ah che cacchio sins si sai non so perché dico signs dai 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 niente ai 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 brava no non fumare più sins e poi no poi non la poi non l'ha fatto però scusa con 90 euro con 89 euro e 99 con 90 euro hai il doppio delle gem il doppio dei diamanti compri 102 diamanti con 30 puoi fare una multi te ne da 204 porca miseria si che si prende vedi che si può reclutare se no gli potrei dare da mangiare ma io non posso sapete com'è la mia vita io non posso no no il doppio solo per per quell'acquisto perché è il primo acquisto niente non puoi non puoi non puoi non si può droppare questo è undroppable eh vedi però dobbiamo convincerlo dobbiamo convincerlo sono quasi due ore di live più le 4 di oggi 6 ho fatto part time oggi e non bisogna fumare io ho avuto un momento che mi sembrava di essere tornato a giocare a a dragon quest builders non so se si è sentito però però era quello io ho avuto da mangiare sì e no era il temporale dai 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 ci ha dato un pezzo di pollo maledetto maledetto bravo power bravo fa male fa male non dovete fumare dottore eh la sedia già è tutta storta oh santo cielo vai 20 per un S bah cioè se se questo è così quello nell'impossible com'è da droppare chi è che me lo spiega se tu fumassi staresti peggio tu pensi dai please 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 è buggato cioè no è buggato questo questo è buggato è buggato cioè può essere solo buggato sto qua non ha senso ah può essere può essere addio ci faccio prima a scoprire come si fa la lo stage segreto sai che ti dico che adesso gli do questo qua così vediamo ah ti piace un po' di meno o mi fai usare il team da reclutare lo usiamo il team per reclutare che te lo ti dico a fare guarda andiamo indietro per forza abbiamo ancora due minuti guarda mi metto qua livello 45 team 1 team 1 per reclutare boom e adesso se non lo prendiamo così non lo prendiamo più non lo prendiamo più se no just bang stai carico stai carico ma vediamo ah ti sta allenando in che senso in cosa ti alleni nel dire just bang se non lo prendiamo adesso ragazzi non ha non ha senso non ha senso se non lo prendiamo adesso niente ma come si fa ma come si fa a droppare sto qua non ha senso moma ma a venire presente moma ma ti porto pure il suo pure a te va bene così uccide pure e starà ad ascoltare ste per un'ora no anche quello può ammazzare può essere pericoloso jamma vediamo un po' ti do da mangiare vai mangia no non la prendiamo più gli do l'ultima possibilità gli do l'ultima possibilità questa è l'ultima possibilità perché poi dobbiamo quittare gentleman bambara gentleman gentleman no potremmo fare di meglio niente ragazzi it's time to go it's time to go no non possiamo prenderlo è è è è un è un prendibol questo è allucinante pizza one no non so non so che cos'è dio e ci vediamo domani mattina ragazzi in live su twitch nome jackpot come sempre lo dico per quelli che sono che recupereranno che non probabilmente non arriveranno mai a questo punto del del video e ci vediamo domani con seven deadly va bene fate fate i bravi bella lì bella lì un saluto a tutti ciao 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 ciao